Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale, oggi si ritorna finalmente con la serie di Puzza e lo si fa con il Puzza al Prato dove tutto è iniziato Eh sì, dove tutto è iniziato ben 119 giorni fa, 17 sabato fa, oggi si ritorna, si ritorna all'inizio si ritorna quando abbiamo portato questa esperienza per la prima volta sul nostro canale vedremo oggi come sarà l'epilogo, sicuramente una partita molto difficile, il Prato quinto in classifica ma dopo andremo a dirvi quelle che sono un po' tutte le news e le statistiche di questo match Sì, 17 punti di distacco tra le due squadre, non sono sicuramente pochi il balza comunque, dopo questa stossa vediamo come riprenderà il proprio campionato e dall'altra parte c'è comunque Fabio, vedremo anche la sua evoluzione dalla prima partita con il Puzza al Prato a quella di oggi E adesso andiamo in macchina, risponderemo come sempre alle vostre domande Andiamo! Eccoci dunque in macchina, diretti verso il palazzetto dello sport di Baricella lì ci sarà come sempre la giornata di Serie B di Puzza nel frattempo risponderemo come sempre alle vostre domande per Fabio Andiamo con la prima domanda da parte di Kelly Lelli Una domanda a Fabio Come mai hai detto che questo campo fa schifo, riferendosi al campo di Grosseto? Qual è la differenza tra i campi di Puzza? Nei campi da calcio si vede se è un campo fa schifo Sì, è vero che nei campi da calcio c'è più differenza Il campo mi ha messo davvero male e fa molta più differenza secondo me Però anche nel calcio a 5 ci sono molte differenze tra i campi Diciamo che quello scorso era un campo duro, anche un po' scivoloso Non era un bel campo Comunque mi riferivo alla pavimentazione Comunque un campo peggiore nel calcio a 5 è sicuramente meno tragico rispetto a uno nel calcio a 11 Sì, sì, quello che dicevo prima Andiamo adesso con la seconda domanda da parte di Valeria Mazzasette Quanti gol pensi di fare Fabio? Non lo so, questa domanda è difficile Mancano quattro partite, non lo so Io adesso punto a giocare meglio, a cercare di crescere per l'anno prossimo Poi se riesco a fare qualche gol meglio, dai Spero di farne un altro paio di gol Prefissati un obiettivo in gol e assist però, proprio a livello numerico Poi magari ci vediamo fino all'anno sera, giungi o no? Diciamo che adesso non voglio neanche dare troppa importanza al gol Nel senso che adesso questa è una stagione formativa Spero di fare il meglio possibile Comunque se riesco a fare altri due o tre gol, comunque sono felice Andiamo con la domanda da parte di Mario Pellegrino Senza il mago non è balza È stato rimesso in squadra, aggiornateci Collegandoci anche con la domanda di Gian Antonio Marraudino Cosa cambia in campo senza Calaia? Grande Fabio Bergoglio si informa Sì, senza Calaia in campo cambia parecchio È un giocatore fondamentale per la squadra È importante sia come riferimento fisico, sia tecnico e attico È veramente un giocatore importante Mi dispiace molto ma fino a fine stagione non ci sarà Mancano poche partite, spero di rigiocarci l'anno prossimo Penso che sia una figura molto importante anche a livello di leadership È uno che trascina il gruppo Quindi si sente molto la sua mancanza Andiamo con la domanda da parte di Agata Mariotti Vi adoro, ogni giovedì aspetto il vostro video partita Io pratico futsal femminile Vi volevo chiedere, il pallone come lo trovi? Io lo odio, è piccolo e duro e non rimbalza Te che ne pensi? Sì, sicuramente è difficile abituarsi all'inizio È completamente diverso Però io sinceramente mi ci trovo bene Siccome il fatto che sia più pesante, più piccolo Siccome aiuta ad indirizzarlo meglio Quindi siccome ci si deve abituare ma io mi ci trovo bene Siccome è una cosa più difficile è tirare al volo Preferisci il campo da futsal con il pallone piccolo O il campo da calcio con il pallone un po' più grande Proprio a livello di confidenza con il pallone in generale? Vabbè, la confidenza con il pallone è ovviamente meglio Secondo me nel futsal dove è molto più contatto con la palla Con la suola è molto più facile Adesso vi leggo io una domanda un po' critica nei nostri confronti Di Laos49 che dice Comunque secondo me dovete alloggiare meno Fabio Perché ha fatto una brutta partita Ma state sempre ad allogiarlo dando colpa agli altri E non a lui come realmente è Questa è una critica pesante A cosa ne pensi? Io innanzitutto ci tengo a dire che c'è anche un po' una differenza Di comunicazione tra me e Fabio Telecamera oppure no ovviamente Anche a telecamera spente me l'ha chiesto come ho giocato Io ho detto non hai giocato bene Poi comunque anche in telecronica abbiamo sottolineato anche l'errore da parte di Fabio Però anche chiaramente l'errore collettivo Che c'era secondo me da parte di tutta la squadra Sì comunque anch'io sono il primo a prendersi le colpe So di non aver fatto una gran partita la scorsa Diciamo che mi prendo le colpe quando sbaglio E lo sanno anche loro Con Fabio che è un ragazzo comunque abbastanza umile Penso che non ci sia tanto bisogno di far ripesare molto l'errore Ma più di sollevarlo sotto certi aspetti Quindi magari non è che li vado tanto ad accusare E mettere il dito nella biaga Perché so che magari lo potrebbe anche accusare psicologicamente Eccoci ragazzi ritornati ai limiti della legalità Sì sono d'accordo alla fine Fabio è già abbastanza consapevole dei propri errori Poi vabbè noi tendiamo anche un po' a edulcorare quello che è il contenuto A renderlo un pochettino più piacevole Ci sta Si esalta un po' tutti anche se poi alla fine magari ci sono errori più o meno gravi Alla fine l'importante è anche rendere il contenuto il più fruibile e gradevole possibile Diciamo così e cerchiamo di farlo anche magari esaltando All'esagerazione alcune cose che non sono da esagerare Mi dispiace che magari l'accento cada sul fatto che Secondo qualcuno ecco si tende solo ad esaltare Fabio Noi tendiamo ad esaltare un po' tutta la squadra Poi è normale Fabio è lo soggetto principale L'oggi, la bella giocata, il gol Anche in una giornata un po' opaca che può essere stata quella di Grosseto Eccoci finalmente arrivati ragazzi al palazzetto dello Sport di Baricella Adesso entriamo all'interno di questo per fare l'introduzione alla partita E andare a sentire i nostri microfoni Fabio prima dell'inizio della ventitresima giornata del campionato di Serie B di Fuzzal Piazziamo le camere Tutto come al solito Fre Eccoci arrivati ormai alla seconda casa di Fabio Di Mauro Il palazzetto dello Sport di Baricella Eccoci dunque all'interno del palazzetto Oggi arriva il Fuzzal Prato Un'altra Toscana dopo l'attrante Grosseto La partita è molto complicata Ma ci ricordiamo anche che è stata la tua partita dell'esordio Come ci arrivi a questa partita E come vedi il tuo passaggio e la tua evoluzione nel mondo del calcio a 5? Sì è passato ancora poco tempo Ma comunque rispetto all'andata mi sento molto più pronto Penso di essere migliorato a livello tattico Quindi mi sento un po' più a mio agio in campo Riesco a capire meglio le situazioni Ovviamente è passato poco tempo Ancora molto da migliorare Però sicuramente rispetto all'andata sto molto meglio Il tuo miglior cambiamento Proprio la tua migliore evoluzione che hai avuto Cosa vedi in te principalmente di migliorato? Penso la parte tattica più che altro Perché all'inizio era veramente spesatissimo Cioè non sapevo cosa fare Più che altro quello È iniziato a capire più i movimenti E quindi quello penso che sia stato il miglioramento principale Eccoci Fabio anche con le mie domande e con le mie considerazioni Oggi affrontate il Prato Insomma è una cosa che accade spessissimo Quella che affrontate la squadra più in forma del campionato È successo anche oggi Il Prato è riduce da 6 vittorie di fila Quindi sarà ancora più difficile approcciarsi a questa squadra I toscani Soprattutto considerato che ora per voi diventa un po' difficile Affrontare questo campionato Un po' privo di obiettivi Qual è l'obiettivo secondo te della squadra e il tuo personale? Beh quello della squadra è sicuramente continuare a dare il massimo Anche se magari lo erano più obiettivi di noi Non dobbiamo fare brutta figura ovviamente Il mio obiettivo personale è quello di migliorare sempre di più Anche in vista della prossima stagione Devo cercare di migliorare il più possibile Questa è una motivazione siccome abbastanza forte Quindi siccome dovremmo dare il massimo in qualsiasi caso Prossimo anno rimani al balzo? Non lo so Vediamo Qua mi trovo bene Poi ci sono molte cose da vedere Prima ho sentito anche il fatto che ti piacerebbe continuare a giocare con Nicola Scalaia Quindi lo seguiresti in un eventuale passaggio in qualche altra società Domanda curiosa e una curiosità più che altro Cioè sì sicuramente mi farebbe piacere giocare ancora con Scalaia Vediamo dai ci sono un po' di variabili da tenere in considerazione Quindi speriamo è un po' presto dai vediamo alla fine della stagione Scalaia comunque è trascinatore Ti ha guidato tantissimo in campo Quanto ti ha dato anche a livello proprio d'esperienza O comunque dell'assimilare certi concetti nel mondo del futsal Nicola è un trascinatore è stato molto utile secondo me Per me per aiutarmi a migliorare Mi ha aiutato tantissimo Ok allora noi adesso andiamo a far cambiare Fabio Gli auguriamo insomma una splendida partita Magari dove possa trovare anche il suo terzo gol consecutivo In bocca al lupo Fabio E ci sentiamo alla fine di questa partita E dopo tre settimane eccoci ragazzi sul parquet Del palazzetto dello sport di Baricella Per raccontarvi quella che sarà la ventitresima giornata Del campionato di Serie B di futsal Balsa Prato Sì oggi la partita per i Balsa è molto complicata L'abbiamo detto anche prima con Fabio A fronte un'altra Toscana dopo un'altra Grosseto 17 punti di distacco tra le due squadre Sono sicuramente molti Ma vediamo come le squadre riprenderanno il loro campionato dopo la sosta Inoltre c'è da ricordare che il Prato è reduce da un ottimo periodo Sei vittorie consecutive Primato per forma fisica Quindi sarà ancora più difficile per la squadra di Mr. Veli Milandreic Trovare la chiave giusta per sbloccare un match sicuramente difficile Per sbloccare una classifica che ormai risiede all'ottavo posto da parecchie giornate Sì sicuramente qua secondo me il pericolo principale Può essere quello di non trovare più motivazioni Date le ultime giornate Dall'altra parte sicuramente Futsal Prato si presenta come una squadra molto forte Anch'essa ha perso l'ultima partita proprio con la Trante Grosseto E vediamo se oggi riuscirà a continuare la striscia consecutiva di vittoria E vedremo se oggi si riuscirà a sbloccare anche il capocannoniere del Balza Roberto Conti Superbike 21 gol in campionato, 22 stagionali, non trova la rete da 5 gare consecutive dal 4 di febbraio Quindi oggi insomma è l'occasione giusta per poterlo fare L'avversario sicuramente non è dei più comodi Però ci proverà così come un po' tutto il Balza Dalla parte opposta invece attenzione a Zaccaria El Gallaf Giocatore sicuramente più pericoloso del Prato 21 gol in campionato e in stagione Lotta tra due capocannonieri per capire anche poi chi avrà la meglio Sì sicuramente El Gallaf insieme a Montorti sono i giocatori più pericolosi dall'altra parte del Futsal Prato Vediamo se oggi confermeranno le loro aspettative E riusciranno a portare a casa un'altra vittoria per il Futsal Prato Andiamo anche a vedere quali saranno le differenze rispetto alla partita dell'andata In cui c'era stato un netto predominio da parte del Futsal Prato Eh sì Fred, speriamo che il Balza possa fare sicuramente qualcosina in più rispetto al match d'andata Considerato anche le tante assenze da parte dei bolognesi Noi adesso andiamo in cabina di regia Sistemiamo l'attrezzatura per prepararci alla ventitresima giornata Del campionato di Serie B di Futsal, Balsa Prato Tutto pronto abbiamo sistemato l'attrezzatura Adesso torniamo in cabina di regia per raccontarvi quella che sarà la ventitresima giornata Del campionato di Serie B di Futsal, Balsa Prato Andiamo Benvenuti al palazzetto dello Sport di Baricella Per seguire assieme quella che sarà la ventitresima giornata Del campionato di Serie B di Futsal, Balsa Prato Sì partita molto complicata oggi per il Balza Che affronterà il Futsal Prato I Toscani nella data vinsero per 5 a 2 17 punti di distacco in classifica tra le due squadre Vediamo se il Balza riuscirà a portare a casa punti importanti e preziosi È difficile reagire soprattutto a fronte della sconfitta esterna Per 7 a 3 contro l'Atlante Grosseto Però Fabio e compagni sicuramente dovono fare meglio Di quanto hanno fatto vedere nell'ultimo match Il Balza è sicuramente qualcosina in più Adesso andiamo a leggere quelle che saranno le formazioni Che scenderanno in campo Partiamo dal Balza che schiera Di Bitonto in porta davanti a 6 come ultimo Pozzi Laterale destro Simone Laterale sinistro Conti Il capitano è come pivò Fadiga Dalla parte opposta invece ritroviamo Laino in porta come ultimo Di Maso Laterale destro Patetta Laterale sinistro Montorzi E come pivò Balestri Che si accinge ora a battere Il calcio d'inizio di questo incontro Tutto pronto per l'arbitro Fischietto in bocca Si parte Inizia ora la ventitresima giornata Del campionato di Serie B di Futsal Con pallone toccato proprio da Di Maso Che va da Patetta Da questi a Montorzi Uno sguardo davanti a sé Il numero 6 torna dal 14 Da questi a Balestri Che si fida un po' tutta la retroguardia avversaria Ancora Balestri fino in fondo Simone bravissimo in tekel Il numero 7 del Balza Il capitano Conti Che cerca la soluzione giusta di passaggio La trovo ora affidando la sfera Fabrizio Simone Che verticalizza bene per Fadiga La sponda nel 3 per il 5 E arriva il vantaggio del Balza Arriva il gol di Fabrizio Simone Quinto in campionato Quinto in stagione Col Mancino Apre le lanze lui Fabrizio Simone Ben gol questo Da parte del Balza Che sfrutta la prima occasione offensiva Per battere line E per realizzare l'1-0 Bravo Fadiga Qui nel lavoro di sponda E poi Simone come sempre Bravo a concretizzare Il suo tiro con il Mancino Che vale l'1-0 Per i padroni di casa Vediamo ora qui Come ha verticalizzato bene Simone Come dicevi anche tu Pocanzi Fre E poi Fadiga fa un ottimo lavoro di sponda A propiziare il Mancino Di Fabrizio Simone E adesso è subito vantaggio Balza Vedremo come reagirà il Prato Da adesso proprio il 14 Va da Laino Da queste a Montorsi Che rischia un po' sulla pressione di Pozzi Poi se ne esce bene il 6 Successivamente Patetta Davanti a 6 a Simone Lo sfida è il numero 14 Che per cercare la verticale per Balestri Capisce tutto Fadiga La Veronica Il numero Su Ettore Fadiga L'arbitro fuori dall'area Adesso sul punto di battuta Si presenta Proprio Balestri Parte ora Balestri Di Bitonto Neutralizza così Il tentativo dell'11 E ancora 1 a 0 E ora Patetta Pronto a battere Questo fallo laterale Va all'indietro Va a pescare Di Maso Che va da Montorsi Spacca la traversa Il 6 del Prato Vicinissimo Al gol dell'1-1 il Prato Si ha calciato benissimo Qua siamo molto vicini All'incrocio dei pali Probabilmente lo colpisce E poi Di Bitonto qua impassibile Avrebbe potuto fare poco Se il tiro Di Montorsi Così stato nello specchio Pronto da Mico A giocare all'indietro La palla per Di Maso Che carica il sinistro Ferrante Gli dice di no E ora Laino È il Galaf Sempre con la solita eleganza Il numero 12 Che va ora A servire Di Maso Che torna del Galaf Il mancino Di Bitonto Neutralizza così Il tentativo del 12 Ancora una volta attento Di Bitonto Ancora una volta attento Nell'uscire Nel coprire lo specchio È anche in questo caso Molto efficace Fabri Che cerca Pecchioli al centro Che va al destro Capisce tutto Ferrante Che poi prova a tramutare L'azione da difensiva Offensiva Prova a andare sempre Il prof Che poi pasticcia un po' Col pallone Pecchioli Glielo va a sottrarre Proprio colui che Non aveva impattato bene Il pallone in precedenza Ma adesso seguiamo Il Galaf Mamma mia Di Bitonto Cosa ha fatto qui Bravissimo a rimanere In piedi fino all'ultimo È riuscito a neutralizzare Ancora una volta Il Galaf Che si sta facendo sentire In campo Si squadra è molto lunga In questa fase Abbiamo visto subito Un'occasione con Ferrante E poi dall'altra parte Con il Galaf Secondo me Ferrante Non ha sbagliato La scelta di andare da solo Ma ha soltanto L'esecuzione finale Di giocarla a Mordacci Forse lì si poteva andare Già al tiro Perché era comunque Molto vicino alla porta Il Galaf Pronto Ad andare indietro Da Pecchioli Ancora il Galaf Che gioca La palla per D'Amico Cerca di fare tutto da solo Il numero 7 Che poi Viene ostruito Da Toschi Intanto Ecco il cambio Entra Fabio Al posto di Samuel Mordacci E ora Dennis Fusca Va all'indietro da Conti Che cerca lo spazio per il Sistro Lo prova Poi tocca anche Toschi Che non riesce a indirizzare E centrare lo specchio della porta La direzione poteva essere Beffarda per Laino Non l'è stato in questo caso però Adesso seguiamo Superbike Che va da Fusca Da questi a Fabio Lo attacca da Mico Fabio in protezione Palla fa fuori secco Il capitano del Prato Poi ha spazio davanti a sé Ma attenzione a Fabri Con una sportellata Sradica via Il pallone Dei piedi del giocatore del balza Si porta a casa Poi un fallo laterale Fusca Adesso rimessa in gioco Per il Prato Con proprio da Mico In possesso Che va ora da Patetta Prova a sprintare il numero 14 Che poi porta palla avanti Con la suola Cerca l'imbucata Bravo Fabio A impedirgliela A chiudere la linea di passaggio Pronto a posizionarlo sulla linea E a giocarlo all'indietro Per Pecchioli Che fa esplodere il destro Di Bitonto però Gli dice di no Il portiere del balza Sta giocando una buona partita E adesso di Bitonto Va da Fabio Non ottimale il controllo Del numero 11 D'amico gli sradica Il pallone dei piedi E va da Laino Controllo da parte dell'1 Che poi cerca di Giocare con la difesa Fabio sporca questo pallone Adesso fallo Da parte di Fusca Ai danni Del numero 5 Fabri E adesso seguiamo Patetta Che va proprio da Pecchioli Fabio Mura L'intervento del numero 10 Avversario E attenzione alla ripartenza Di Superback Conti Che va da Fusca Lo stop non ottimale Cerca di addomesticare Questo pallone Patetta ci mette una pezza Molto bravo Ripiegamento difensivo E ora Pecchioli Buona la palla di Montorzi A favorire Patetta Che si divora La rete dell'1-1 Di Bitonto in piedi Fino all'ultimo Con la mano a destra Recupera il pallone E adesso Attenzione a Montorzi A Fabio Davanti a sé Cerca di sfidarlo Il numero 6 Fabio molto bene Arginare il tentativo Di Montorzi E poi con la collaborazione Di Fusca Riparte il balza Ora Toschi Va sempre dal 2 Che cerca il 14 Poi fallo netto Ai danni di Fusca Non segnalato Dal direttore di gara E adesso fallo laterale Affidato i piedi Di Conti Che va da Pozzi Da questi a Fabio Bello il dribbling Su Montorzi Poi sguscia via bene Poi forse un fallo Sul numero 11 Non ravvisato Sul direttore di gara Che fa continuare Poi Conti Toglie le castagne Dal fuoco E ora Di Bitonto Che va da Fabrizio Simone Cerca il guizzo Su Montorzi Poi prova la verticale Verticale che non arriva Capisce tutto Ora Balestri Che prova a impostare Lo fa con l'aiuto Di Patetta Da questi a Montorzi Che va da Di Maso Ancora Di Bitonto Ancora una volta Sempre lui Sì questa parata Non è facile Rivediamo infatti In Italia Play Buon riflesso Da parte di Bitonto Anche in questo caso Comunque va a coprire Il più specchio possibile Ed è molto bravo Di intervenire Ancora una volta Uno dei protagonisti Del primo tempo del balza È Nicola Di Bitonto Adesso Robiconti Pronto a battere Questo fallo laterale Va lunghissimo Capisce tutto però Pecchioli Avanza sempre Ora il 10 del Prato Che sfida a Fadiga Poi l'ha assolata Andare l'indietro Per il Gallaf Da queste ad Amico Ancora Pecchioli Davanti a Seapozzi Poi lascia sfilare Per D'Amico Che va al destro Para di Bitonto Una volta Poi due Ottimo il tentativo Su Fabri Ma attenzione Che non è finita Ancora Pecchioli Che allarga ora a sinistra Dove trova il Gallaf Da queste ancora Pecchioli Carica il destro Di Bitonto in due tempi Ma che parata abbiamo visto prima Prima su Pecchioli E poi Su Fabri E vediamo ora anche da replay Si è grandissima parte La partita di Bitonto Che magari sbaglia Un pizzico La prima respinta Un po' corta Però è bravissimo Poi Con un'ottima parata Un ottimo intervento Rimediare Un'apparata fantastica La seconda Soprattutto La parte di Bitonto Che si conferma Come il miglior giocatore Al primo tempo del buzz Adesso vediamo il prof Che va da Fadiga Vuole il pallone di ritorno Il 24 Fadiga non riesce a rendere Io l'attenzione adesso Allo sprint Da parte di Fabri Va al destro Conti respinge La palla è da Amico Manca 4 secondi Da Amico da casa sua Di Bitonto Spettacolare vola E adesso Manca meno di un secondo Alla fine Ed è calcio d'angolo Ma seguiamo Balestri Che va dentro Anzi no Non era Balestri Poco importa Finisce ora Il primo tempo Che si conclude 1-0 per il balza Aperto le danze Ha sbloccato questo match Fabrizio Simone Il risultato permane Bella partita Sì bella partita Tante occasioni Soprattutto dalla parte De Fuzza al Prato Il balza ha concretizzato Le poche occasioni Realizzando la rete Dell'1-0 con Fabrizio Simone E mantiene Questo vantaggio Fino al termine del primo tempo Eccoci ragazzi Dunque alla fine Della prima frazione di gioco Il punteggio dice Balza 1 Prato 0 Sicuramente una partita Molto combattuta Bravo Fabrizio Simone Ad aprire le danze Sulla bella sponda Di Ettore Fadiga Sì Comunque è stato un bel gol Quello da parte di Simone Magari anche un po' elementare Dato che alla fine Era un semplice scambio Un 1-2 Però bravi entrambi A fare tutto con i tempi giusti E Fadiga nel lavoro di sponda Per il resto il balza Secondo me non sta disputando Un brutto primo tempo Chiaro il Prato Sta facendo più la partita Però si trova comunque avanti E ha capitalizzato Comunque le occasioni Che gli sono arrivate Esatto Fra è molto bene di Bitonto Neutralizzare quelli Che sono stati i tentativi Degli ospiti Il risultato è rimasto lì Sull'1-0 Però più Prato che balza C'è da dire Per onestà sportiva Anche Fabio è abbastanza bene Non è entrato male in partita Quando è stato chiamato in causa Comunque nei pochi minuti Che ha avuto a disposizione Come reputi la sua performance E come reputi un po' La prestazione di tutta la squadra Sì sicuramente Fra tutti Penso che di Bitonto Sia di netto Il migliore della partita di oggi Facendo delle parate pazzesche Quella sul finale La doppia parata Magari aveva un po' sbagliato La rispinta corta Poi è stato bravissimo Nel rimediare Con un bel balzo Poi comunque Il balzo in generale Non sta giocando male Dato anche poi Il coefficiente di difficoltà del match Fabio comunque Non è entrato male Ha giocato comunque Un buon primo tempo Anche a livello tattico Secondo me È entrato comunque tranquillo Vediamo se nel corso del secondo tempo Gli capiteranno anche più occasioni Il balzo ha comunque Contropiedi gli spazi Per cercare qualcosina in più Magari anche il raddoppio Ce li può avere E allora andiamo a vedere Quello che sarà l'esito Di questa seconda frazione di gioco Andiamo in regia Torniamo lì E vediamo come andrà a finire Andiamo a vedere Eccoci nella ripresa Per raccontarvi Quelli che saranno I secondi 20 minuti di gioco Vedremo quale sarà L'epilogo di questo Interessantissimo match Sicuramente il balzo Non deve ricadere Negli errori Che ha commesso Negli scorsi match Vediamo se il balzo Riuscirà a mantenere Comunque una discreta prestazione Nel primo tempo Che infatti ha portato All'1-0 Per i padroni di casa Si parte ora Questo secondo tempo Con Il possesso Da parte del balzo Con Fusca che va da Conti Verticalizza lunghissimo Nella terra di nessuno Laino si riappropria del pallone Adesso il numero 6 del Prato Va dall'11 Che verticalizza per Patetta Che torna da Balestri E arriva il gol Dell'1-1 Arriva finalmente Il gol del pareggio Arriva con Stefano Balestri Diciottesimo in campionato Diciottesimo stagionale Bella la collaborazione Di tutto il Prato Nell'imbastire l'azione Dell'1-1 Si bella la manovra offensiva Da parte del Prato Bravo in questo caso Patetta che lascia lì Il pallone per Balestri Che in sacca di Bitonto Forse possiamo anche Rivederlo da replay C'era anche Toschi Davanti al portiere E forse questo Non gli ha consituito Di vedere il pallone in tempo Balestri realizza comunque Un bel gol E soprattutto meritato Per il gol che vale L'1-1 Secondo te avrebbe potuto fare Qualcosina in più di Bitonto? Non penso anche perché Credo ci fosse un po' Toschi davanti Che gli abbia un po' Oscurato la vista La visuale poi di Bitonto Chiaramente Non gli si può dire niente Per quanto si è visto Nel corso della partita Ma adesso seguiamo Montorsi Spazio davanti a sé Il numero 6 Che sfida Toschi Poi va da Balestri Da questi a D'Amico Dunque Patetta Che torna sempre da D'Amico Balestri Cerca di far fuori Ferrante Capisce tutto il 24 Che poi prova a ripartire Gli sottrae il pallone d'Amico Dunque Ancora una volta Balestri Che va da Patetta E il mancino del 14 Di Bitonto Para Senza troppi problemi E fa ripartire i suoi Andando ora da Conti Il fallo Ora Del capitano del Prato Adesso vediamo Cosa riuscirà a generare Francesco Patetta Che va dal Gallaf Che sfida Fusca E il Gallaf Torna da Patetta Che torna ancora al centro Da Zaccaria E il Gallaf 22esimo in stagione 22 in campionato Lo dicevi nel prepartita Voleva il gol Non l'ha trovato Contro la posa Bologna L'ha trovato ora E ha trovato un gol Pesantissimo Quello del 2-1 Sì Ancora una volta È perso un po' Tutto troppo facile Secondo me Per il Fusca al Prato È arrivato un gol simile A quello del pareggio Uno scambio Anche in questo caso Il Gallaf Da solo Libero Non può sbagliare Quello che vale Il gol del sorpasso Per il Fusca al Prato Eh sì Qui secondo te Chi è che ha sbagliato Principalmente in questa manovra Abbiamo visto il Gallaf Tutto solo Però molto bravo In fase di costruzione Sia Francesco Patetta Che Zaccaria il Gallaf Sì in generale Penso che qua il Bals È stato un po' lento Nel seguire la manovra Del Prato Forse Il Gallaf Era di conti In teoria Però in generale Il Prato È andato a un ritmo diverso In questo tipo di azione Ed è già un paio di minuti In cui Stanno a un ritmo Nettamente superiore al Bals Adesso vediamo Come si riprenderà il Bals Sicuramente È andato forte Il Prato Inizio di questo Secondo tempo Lo dicevamo Fin da subito Nelle ultime gare Sicuramente Non sta facendo bella figura La squadra di Mr. Velimir Andrej Soprattutto all'inizio Dei secondi tempo Ma adesso Vediamo Se riuscirà a invertire Questa gerarchia Questo trend Negativo Delle ultime sfide Vediamo ora Mordacci Che vada Conti carica il destro Laino Che parata Nel numero uno Che adesso Viene chiamato in causa E viene chiamato in causa bene Molto bravo Sì Grande pericolo Questa è la parte del Puzzaprato Rivediamo qui La grandissima parata La parte di Laino Perché il tiro è potente Ma non a destra Infatti è una gran parata Però C'è da dirlo Forse Mezzo altezza Questo è un favorito L'intervento Anche se il tiro di Conti Comunque è fantastico Nel suo ripetorio Fatiga Pozzi Cerca la verticale Per Mordacci Capisce tutto Ora il Gallaf Che prova a ripartire Con la collaborazione Di Montorsi Bravo Fatiga Ripiegamento difensivo Che si Va a riprendere questo pallone E poi duello Un po' in mezzo al traffico Adesso Di Maso Ci mette una pezza E vada Fabri Che carica il destro Alto Sopra la traversa Si stile Non particolarmente Pericoloso Adesso Comunque Dopo il 2-1 Il Prato Sembra aver abbassato Un po' Il baricentro Balsa sta creando Un po' di più Chiaramente Adesso Più fretta Necessità di trovare Il gol Alla squadra di casa Adesso Mordacci Da Pozzi Da questi A Simone Attenzione Montorsi Piede a martello Alto Altezza del petto Manuel Taschino Cartellino rosso Cartellino rosso Per Montorsi Che finisce Sotto la doccia E lascia il Prato In inferiorità numerica Per due minuti Di gioco A meno che Una delle due squadre Non faccia ovviamente gol Ma adesso Vediamo le scuse Di Montorsi Sicuramente L'intervento C'è Fallo Assolutamente Inevitabile Così come probabilmente Cartellino rosso Però Montorsi Si fa sincerare Delle condizioni Di Fabrizio Simone Questo bello Un bel gesto Insomma Sì chiaramente Non c'era cattiveria Questo gesto Sì esatto Gamba alta Colpisce Sul petto Simone Un po' si lamenta Con Montorsi Ma ripetiamo Non c'era assolutamente Cattiveria E comunque Ha pagato a gara Con l'espulsione E adesso Il Balza Ha un'occasione Ghiottissima Per rimettere le cose In pari E adesso Seguiamo Ferrante Che va da Conti Che torna sempre da Ferrante Dentro per Pozzi Laino Incredibile Risposta qui Del numero uno Del Prato Sul tentativo di Pozzi Che si era inserito Come un metronomo E adesso Ancora Conti che va da Pozzi Qui ingenuità Errore di misura Ma adesso Rivediamo quello Che è successo prima Bella La palla di Ferrante E poi Qui cosa ha combinato Laino Parata difficilissima La para Con il piede sinistro In spaccata Va a coprire Tutto l'angolo Basso sinistro E compie una vera Proprio Strepitosa parata Intanto pronto Entra De Fabio Che si toglie la casacca E la cede Robiconti Entra ora Fabio Quando manca ormai Pochissimo Mancano All'incirca 30 secondi di gioco Alla fine del vantaggio numerico Seguiamo ora Pozzi Ferrante Fusca Poi un po' di confusione Ferrante spedisce la palla Di fatto addosso A Pozzi Adesso Fusca Ferrante Pozzi Davanti a sé a Fabio Pozzi decide di andare da Fusca Ancora Pozzi Da questi a Ferrante Che sfida ora Balestri Cerca lo spazio Per il sinistro Il 24 Che fa esplodere Il sinistro Alta Sopra la traversa Tutto sotto controllo Per l'Aino Adesso Fadiga Così e così Questo passaggio Ci arriva Comunque Ferrante Ancora Fadiga Che va da Fabio Che torna sempre da Fadiga Buono il dialogo ora Tra il 3 e l'11 Fabio va In verticale A favorire Fusca Bello il pallone di Fabio Poi Ferrante Di prima per Fadiga Molto bravo l'Aino Qui In uscita Adesso Ripulisce Come sempre il Prato Ma adesso capisce tutto Fadiga Che va da Fabio Da questi a Ferrante E' il fallo Forse di El Gallaf Ai danni del 24 Non secondo il direttore di gara Che ora Si avvicina Anche la circostanza Che ha visto coinvolto Gigi Ferrante Il prof Adesso cartellino In mano Per l'arbitro Che dice All'assistente Il 24 Quindi arriverà L'ammunizione Per già Luigi Ferrante Il prof Evidentemente E' stato ravvisato Un fallo di simulazione In questo caso Mi verrebbe da dire Sicuramente un Balza Che si è ripreso bene Dopo due schiaffoni presi Peccato Che abbia dovuto subire Quelli Per potersi riprendere Perché Ha disputato davvero Una buona partita Adesso Fabio Restituisce la palla Al portiere E poi ripartire Lo fa ora Affidando la palla Al Gallaf Con la classica eleganza Zaccaria Al Gallaf Dribblege A mezzo al traffico Poi Fabio Molto bene Ripiegamento difensivo Proprio sul 12 Poi Simone Con la suola Per Fusca Da questo è ancora Fabio Prova a sprintare Fabio Forbice esterno destro Molto bene Vada Simone Che torna da Fabio Che poi Inciaspica Praticamente Sul pallone Cade Peccato Perché qui Avrebbe potuto chiudere Un'azione creata da lui In maniera Molto buona Rivediamo anche qui Il coast to coast Forbice col sinistro Da Simone Che torna sempre da Il numero 11 Non riesce però Si è molto bravo Fabio In questa circostanza Perché utilizza il destro Ed è quello Che probabilmente Manda fuori tempo L'avversario Bravo perché poi Anche allarga Con i tempi giusti Verso Simone E peccato perché Effettivamente È mancato soltanto L'ultimo passo Per mettersi Davanti al portiere Adesso Fusca Che va da Fadiga Da questi a Simone Che cerca la verticale Lunga Lunghissima Dove non c'è nessuno Ancora Fadiga Che torna sempre Da Fusca Da questi a Fadiga Che va lunghissimo A favorire l'inserimento Di Fabio Fa partire il destro A lato Buono il tentativo Qui di Fabio Però la palla Si è persa Lateralmente Forse è un po' forzato Questo tentativo Da parte di Fabio Avrebbe potuto cercare Qualcosa di diverso Forse anche Rientrare sul mancino Oppure aspettare I rinforzi Ha cercato la conclusione Con il destro Tiro che Sicuramente esce Di un po' Poi Laino In giornata Ed ora Rimesso in gioco Per il Balza Con Simone Che cerca il centro Fabio Pocca Fabri Poi il suo intervento Diventa Un alleggerimento Per Laino Che torna sempre Da Fabri Che con la sua Lava da patetta Tutto solo Con Di Bitonto E se la cava Ancora una volta Il portiere del Balza In spaccata Questa volta Dire di no Al numero 14 Francesco Patetta Sì ancora una volta Bravo Di Bitonto Abbiamo visto tante parate Di questo tipo Nella partita di oggi Da parte di Nicola Di Bitonto Anche in questo caso Chiude tutto lo specchio E Patetta non riesce A superare Il portiere del Balza E adesso Attenzione a Pecchioli Perché si stava insidiando Pericolosamente Nelle retroguardie del Balza Bravo anche Fabio A metterci una pezza A sporcare un pallone Che sarebbe potuto essere Pericoloso Adesso sempre l'11 In possesso palla Con l'aiuto dei compagni In questo caso Di Ettore Fadiga Che torna sempre da Fabio Uno sguardo attorno a sé Va a premiare Ora Toschi Davanti a Sia di Maso Toschi lo punta Lo fa fuori secco Attenzione al 14 Contro l'Aino Poi Fadiga Di pochissimo Non ci arriva Il dottore Ma forse ha toccato Ancora l'Aino Incredibile Sì penso che il tocco di Lino Ci sia stato Forse Fadiga Un po' troppo poco reattivo In questa circostanza Bravissimo Toschi Ma adesso attenzione Fabrizio Simone Vada Fabio Il suo tiro di Ventonasis Per Fadiga E ancora una volta l'Aino Cosa stiamo vedendo Un super Edoardo Laino Che sta disinnescando Tutto quello che può disinnescare Adesso Fallo di Fabio Su Balestri Se non ho visto male Fallo tattico Qui forse ci poteva stare Anche il cartino giallo Che invece arriva per Veli Mirandrej Che chiama anche il time out Rimessa affidata Ai piedi di Picchioli Cerca una soluzione Prova a sventagliare In direzione Patetta La palla non è comoda Capisce tutto Toschi Il destro Tenebroso Si perde a lato Ancora vicino Alla rete del 2-2 Il balza Conti cerca lo spazio Per il destro Lo prova Fabri Ancora Superbike Ancora il prato A chiudersi Si ci ha provato Come sempre Conti Che si è liberato Lo spazio per il destro Questa volta Ancora una volta Pericoloso Ma è bravo Fabri ad opporsi In questo caso Laino Forse era sulla traiettoria Ancora una volta Sai che non lo so Perché secondo me Stava andando Dalla parte opposta In ogni caso C'è stato Fabri Pozzi il maestro Che va a destra Dove trova Robiconti Che pensa al destro Lo fa esplodere Laino Ancora una volta Edoardo Laino Entra Denis Fusca Esce Nicola Di Bitonto Dunque si gioca Il tutto per tutto Qual balza A 3-24 al termine Adesso è assedio balza Esce Di Bitonto Rientra Fusca Pozzi lo aspetta Cerca di andarlo a servire ora Sempre Denis Fusca Cerca di inventare Cerca di tirare fuori La giocata giusta Conti Che va da Ferrante Cerca il pallone di ritorno Per il 7 Che va di prima avanti Capisce tutto Di Maso Che cerca la porta E la trova E arriva il gol Del 3-1 Il gol che forse Chiude la partita Esulta tutto il prato E' 3-1 Si bel gol Comunque da parte di Di Maso Un tiro molto distante Dalla porta Bisogna sempre centrarla Chiaramente Non essendoci il portiere Non è stato particolarmente difficile Qual balza Non gira benissimo palla E lo paga Con il gol del 3-1 Manca con un po' da giocare Vediamo se anche Fabio Ci da dare una scossa Vediamo ora Che è entrato proprio Fabio Al posto di Ettore Fadiga Intanto Ci viene riproposto E reprede il gol Di Maso praticamente Da casa sua Però la porta Totalmente sguarnita Adesso Fabio Che va da Pozzi Da questi a Fusca Il balza mantiene Il portiere di movimento Peccato perché Il balza se la stava giocando Ma adesso seguiamo Pozzi Che va da Fabio Il numero di Fabio Su D'Amico e su Balestri Poi va dentro da Ferrante Che cerca il pallone di ritorno Per l'undici Ottimo qui Ripiegamento difensivo Il capitano del Prato Ma adesso seguiamo Ferrante che va dentro da Conti Che lì c'è l'intervento Ma non è finita Perché dalla parte posta C'è Fusca Che può rigiocare il pallone Dentro per Fabio Che bucca clamorosamente L'intervento e l'appuntamento Col pallone Ma adesso rivediamo Quello che è accaduto prima Con Fabio In ottimo dribbling Ai danni di due avversari Poi non riceve La palla di ritorno Anche gesto di stizza Qui di Fabio Col palo E poi Fusca Che va a servire dentro Proprio il numero undici Che non arriva per una questione Di centimetri Ma adesso torniamo in live Con la sfera tra i piedi Di Di Maso Aggredito Sia da Fabio Che da Ferrante Se la cava molto bene Il 17 Che poi va da patetta Da queste balestri Di prima sempre per Di Maso Tutto solo contro Fusca Di Maso E arriva anche la rete Del 4-1 La rete che chiude Definitivamente i giochi Sesto gol in campionato Sesto stagione Eccolo qui Sì in questo caso Il balza Un po' troppo scoperto Ma chiaramente Il risultato Ormai era già Forse compromesso Rivediamo qui l'occasione Da solo Di Maso Riesce a battere Fusca Per quello che vale Il 4-1 La partita adesso È in cassaforte Per il Fusca al Prato Tutto troppo facile Per Guglielmo Di Maso Impendida propiziata anche da due reti Che hanno fatto sì Che questa giornata Non possa non essere ricordata Manca sempre meno E adesso il balza Deve ripartire tra due settimane Contro la Vigor Fucecchio Dove Dovrà ottenere comunque I tre punti Per esorcizzare Le ultime due sconfitte Ma adesso seguiamo D'Amico Che fa tutto bene Tutto solo davanti a Di Bitonto Calcia Il numero 1 Neutralizza l'intervento del set E poi con l'aiuto di Conti Fa ripartire Fabio Che fa fuori il capitano del Prato Fa fuori anche Patetta Fabio scatenato Fa fuori anche Di Maso Gioca la palla dentro Per Ferrante Non c'è a livello 24 Ed è game over Al palazzetto dello Sport di Bericella Suona ora la sirena Il punteggio dice Balza 1 Prato 4 Eccoci finalmente Nel post partita di Balza Prato Il punteggio finale Dice 4-1 per gli ospiti Una partita sicuramente combattuta Soprattutto nella prima frazione di gioco Il 2-1 è stato in bilico Fino all'ultimo secondo Poi dopo il portiere di movimento A tre minuti dalla fine Un po' scombussolato Quelle che erano le gerarchie Che si erano create in campo Sì In generale penso che Inizio del secondo tempo Abbiamo portato un po' il Balza Una perdita di concentrazione Non è iniziato come ha finito il primo tempo Ha perso un po' gli equilibri E questo ha portato il Prato Subito a ribaltare la partita Non penso che il Balza Aveva giocato una brutta partita Però secondo me Sull'episodio dell'espulsione Poteva fare qualcosina in più Quello era l'attimo da cogliere Per cercare il 2-2 E non l'ha fatto Eh sì Fra purtroppo non si è riuscito A sfruttare al meglio La superiorità numerica In 5 contro 4 4 contro 3 Qual si voglia E anche Robiconti Che è stato il giocatore Che è andato più vicino Alla rete del 2-2 Non ci è riuscito E poi dopo la fine l'epilogo Lo conosciamo un po' tutti Fabio Fabio è in crescita Secondo me nel secondo tempo In generale non ha fatto Una brutta partita Nel secondo tempo Ha trovato più spazi Ha cercato l'uno contro l'uno Diverse volte Ha trovato anche diversi spazi interessanti Che poi magari Non sono stati sfruttati in generale E adesso andiamo Con il nostro giro di interviste Andiamo Eccoci Finita la partita Siamo con Fabio negli spugliatoi Ti chiedo un parere generale Com'è andata questa partita Avete un po' buttata via anche voi Secondo te Sì secondo me siamo stati bravi Nel primo tempo A reggere anche difensivamente È stata una partita Abbastanza di sacrificio Nel primo tempo Ci siamo difesi Secondo me bene Abbiamo fatto quello Che ci credeva il mister Di aspettarli Senza prestare troppo E l'abbiamo fatto bene Poi nel secondo tempo L'abbiamo un po' buttata via Abbiamo fatto due errori noi E ci hanno punito E quindi poi Si è messo in salita Ed è stato difficile Non siamo riusciti a recuperare Anche se le occasioni per farlo Le abbiamo avute Per quanto riguarda la tua prestazione Pensi che oggi avresti potuto trovare il gol E in mente qualche occasione Che avresti potuto sfruttare meglio Nel primo tempo no Perché comunque Ho fatto una partita Abbastanza di sacrificio Sono stato dietro Più concentrato Alla fase difensiva Nel secondo tempo Ho avuto qualche opportunità Forse potevo sfruttarla meglio Ci è sempre mancato in generale Proprio l'ultimo passaggio L'ultimo tiro Ci siamo andati vicini Diverse volte Infatti secondo me Ci stava benissimo un pareggio Allora erano più bravi A livello individuale Però secondo me Un pareggio non ce l'avrebbe tolto nessuno Eccoci Fabio Anche con i miei quesiti Allora sì Sicuramente una bella partita Da parte tua Quando sei stato chiamato in causa Hai fatto bene Sei riuscito bene In qualche dribbling A volte Avresti potuto anche esagerare Tra virgolette Anziché optare per una soluzione di passaggio Che poi dopo è stata murata In più riprese dagli altri Secondo me ci stava Cercare l'1-2 In quell'occasione In cui l'ho cercato Però c'è sempre mancato L'ultimo passaggio O anche io Magari potevo essere Un po' più concreto In un passaggio di Fusca Sono stato un po' troppo indietro Forse Non lo so Sicuramente Un po' di ramarico c'è Non ci si nasconde Soprattutto a fronte Dell'espulsione Di Montorsi Che poi dopo vi ha lasciato La superiorità numerica Lì l'avreste potuta sfruttare meglio Cosa è mancata Secondo te Da fuori Vedevamo un giropallo Un po' troppo lento Tu dalla panchina Come l'hai vista? Sì è un peccato Non essere riuscito A segnare in quell'occasione là Siamo andati diverse volte al tiro In quei due minuti e mezzo Però sì Forse il giropallo Un po' troppo lento Anche quando sono entrato Potevo fare meglio Sono stato un po' troppo frettoloso Potevamo tutti fare di meglio In quell'occasione Il problema principale È stato il giro palla lentola E invece per quanto concerne La situazione portiere di movimento? Vabbè Quella sicuramente È una situazione Molto difficile da gestire Però si sa che Molte volte succede questo Che nel portarsi avanti Poi si prende gol Sicuramente un peccato Perché il portiere di movimento A tre minuti dalla fine Poi dopo vi è costato Due gol nel giro di pochi minuti Lo si sarebbe dovuto introdurre In un secondo momento Secondo te? No Ci può stare Anche perché Non l'abbiamo mai fatto Durante questa stagione Il portiere di movimento Secondo me l'ha provato Anche in vista Di occasioni future In modo da poterlo applicare meglio Adesso il balza Deve ripartire Da Vigor Fucecchio Tra due settimane Vista la sosta per Pasqua Vedremo come si comporterà Sicuramente troveremo Un balza più in forma Speriamo di sì Magari è una partita Anche un po' più facile Dobbiamo dare il massimo E concludere bene Questa stagione Queste ultime tre partite Che mancano Eccoci in compagnia Di Marcello Sisti Il nostro grande amico Tra l'altro È influito anche sul passaggio Del calcio a 5 di Fabio Ce l'ha a dire Tra l'altro Sei anche molto importante Nelle serate Ti vediamo con gli occhiali da sole Probabilmente per nascondere Ori di insonnia Per quanto riguarda La partita di oggi Cosa ne pensi? Ciao a tutti intanto Partendo dal discorso della partita Secondo me Fabio Non ha giocato male Potrebbe usare anche di più Perché è mancino come me Ma il fatto di accentrarsi Giocando a destra E poi un calcio secco Fa tanto la differenza Anche in un campo Magari un po' più grande Rispetto a quello Che sono abito a giocare io Che è un po' più piccolo Un rientro secco E un calcio Magari sul primo Sul secondo palo Con un compagno Che fa un taglio Dall'altra parte Secondo me è tanta roba Tera quanto tempo giochi E perché ci tenevi così tanto A portare Fabio Un punto nel calcio a 5 Fabio ha fatto un percorso Molto simile al mio Anch'io ho iniziato a giocare a calcio Da quando ero piccolino Quando avevo 6-7 anni Poi dopo ho smesso E mi sono andato al calcio a 5 Quindi ho un po' rivisto lui Quando l'ho conosciuto Quest'estate Mi sono un po' rivisto Quindi anche lui che giocava a calcio Mancino Che gioca a destra Che rientra Tecnico E ho detto Sei resti perfetto a giocare a 5 Il mio prossimo obiettivo È convincere il secondo di Mauro A giocare a 5 E poi l'impresa sarà il terzo Sì E eccoci anche con le mie considerazioni Marci Innanzitutto Sei stato complice di questo passaggio Di Fabio nel mondo del calcio a 5 Come diceva anche prima Fre Ma secondo te È stata la scelta giusta Col seno del poi Secondo me Il percorso è ancora lungo da fare Siamo neanche alla fine del primo anno L'importante è che si diverta Secondo me il percorso Ovviamente è ancora lungo È giovanissimo Quindi avrà tanti anni Secondo me ancora davanti Per continuare a divertirsi Far sempre meglio E imparare sempre di più Secondo me le parti fondamentali Di questo sport ecco Il prossimo anno potremo Vedervi giocare assieme magari Ma chi lo sa Chi vivrà vedrà Noi adesso richiamiamo Fabio E andiamo in chiusura Noi ragazzi vi ricordiamo Che giovedì prossimo Non uscirà un video relativo Alla serie B di Fuzzle Causa Pasqua Ma uscirà come sempre Un contenuto diverso Noi con la serie B di Fuzzle Ci rivediamo invece Tra due settimane Con la Vigor Fugecchio Come sempre vi ringraziamo Per aver visto questo video Fino alla fine E come sempre Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Lasciate tantissimi commenti A cui risponderemo Nel prossimo video Lasciate anche like al video Ovviamente Ragazzi un follow E per sempre Ciao ragazzi Al prossimo video